Mister, vittoria fondamentale per il proseguo del campionato 4-1 in casa contro il Neapolis. Diciamo non un ottimo approccio alla gara, ma alla fine il risultato parla chiaro. No, all'inizio sinceramente, come ci siamo detti in settimana, era una partita da vincere assolutamente. Quindi era la prima delle tre in casa che dovevamo vincere. Quindi l'importante era il risultato e l'abbiamo fatto. Più che approccio alla partita ho visto la squadra inizialmente un po' tesa, proprio per dover vincere assolutamente la gara. Però poi dopo piano piano abbiamo avuto tante occasioni da gol, la squadra ha lavorato bene, potevamo fare molto meglio, però siamo contenti assolutamente anche perché adesso la prima l'abbiamo tolta. Adesso già mercoledì dobbiamo affrontare un'altra partita importante. Le due partite in casa, se le vinciamo, ci assicureranno sicuramente i play-out in casa, ma non ti nascondo che il nostro obiettivo è quello di uscire definitivamente dalla zona play-out. Mi sembra che anche i risultati di oggi potrebbero comunque venirci a dare una mano, quindi venire incontro. Il nostro obiettivo adesso, indipendentemente da tutto, è fare più punti possibili in casa e cercare poi di portarci almeno un punto da Mondragone. Ma è fondamentale vincere le altre due partite in casa con Frattese e Maddalonisi. Sarai detto tu, un po' teso, due rigori, il primo sbagliato, però su un risultato ancora in bilico 2-1. Si pensava forse a una reazione del Neapolis e mentalmente usciva un pochino fuori il Forio, però il Forio sempre con carattere ha giocato e alla fine due gol. No, oggi la squadra ha dimostrato di essere, come ho sempre detto, una buona squadra. Non è una squadra da meritare questa classifica, però oggi piano piano, ripeto, se questa squadra l'avessimo avuta dall'inizio saremmo parlando di altro. Però fondamentalmente oggi ha dimostrato di avere personalità, avere comunque una squadra compatta. Mi è dispiaciuto non poter dire le stesse cose degli ultimi 20 minuti a Dischia, perché comunque ne abbiamo discusso in settimana. È una squadra che ha fatto sempre delle ottime prestazioni, sono mancati risultati. Adesso sinceramente possiamo anche fare a meno delle prestazioni, ma sono importanti invece assolutamente i risultati. E oggi è stata una di quelle partite che valevano i tre punti, quindi era importantissimo vincere, siamo contenti. Domani già saremo in campo per preparare la partita di mercoledì. E quindi niente, adesso cerchiamo di fare tutto il possibile per tirarci fuori. E sarà appunto mercoledì c'è il recupero con la frattese, una frattese che oggi ha pareggiato 0-0 sul campo del Napoli-United. Si pensava c'era qualche problema, però vedendo il risultato di oggi sicuramente sarà un'altra battaglia. Sì, sì, la frattese sicuramente non verrà a regalarci niente, però credo che forse potremmo lavorare un po' sugli stimoli. Noi ne abbiamo sicuramente loro, penso che non avranno più niente da dire al campionato, ma sicuramente vorranno fare bella figura. Noi invece abbiamo bisogno assolutamente di punti, quindi diciamo che gli stimoli faranno la differenza in questa gara. I ragazzi anche oggi li ho visti carichi, mi hanno chiesto immediatamente di fare allenamento domani, quindi diciamo che tutti quanti stiamo sulla stessa direzione e i ragazzi sono assolutamente determinati a voler portare la salvezza a casa. Frattese vediamo quello che succede, sicuramente è una squadra superiore, non me ne voglia la Neapolis, ma comunque la classifica parla chiaro, è una squadra completamente diversa, è una squadra comunque più solida, più spessore, più individualità, quindi è un'altra, come dicevi tu, assolutamente un'altra battaglia, ma non ci tireremo indietro, come abbiamo fatto oggi, cerchiamo di portare i tre punti a casa e mettere un altro tassello per la salvezza. Mister, ultime due domande, a sorpresa abbiamo visto di nuovo Quiriti in porta. Sì, sì, e parlando un po' con il preparatore dei portieri era giusto dargli ancora una possibilità, anche perché lui si è fermato per una borsite, Raffaele ha fatto molto bene, però abbiamo deciso anche di confrontarci con l'allenatore dei portieri, è una decisione che abbiamo preso insieme e credo che oggi abbia dimostrato di essere assolutamente pronto per giocare da titolare. Raffaele comunque ha fatto bene, comunque è un altro ottimo portiere, abbiamo nel nostro arco due frecce importanti, che sono due portieri che se la stanno giocando, quindi vediamo anche durante la settimana quello che succederà. Ed è importante tenere comunque sempre lo spirito alto, la tensione alta e grande, grande intensità e quindi sia loro come i portieri, sia la squadra, questo è il nostro obiettivo, mantenere sempre intensità altissima per portare sempre l'obiettivo, per raggiungere l'obiettivo. Oggi Alessandro mi è piaciuto molto, molto sicuro, non ha parato tantissimo, però quelle due occasioni dove è stato chiamato in causa ha fatto bene. Squadra in grandissima condizione, l'abbiamo vista oggi, sembra nessun infortunio, quindi con la frattese rosa al completo come oggi. Sì, anzi rientra Moccia perché ha scontato la giornata di squalifica oggi, però oggi devo dire che Cantelli ha fatto un'ottima prestazione, giocatore che ho sempre stimato, ho sempre rispettato, ho sempre voluto nelle mie squadre, quindi si fa sempre trovare pronto, oggi l'ha dimostrato con degli assist, comunque ha fatto un'ottima partita, quindi vediamo anche in settimana, domani valuteremo anche chi far giocare, però sinceramente in questo momento Daniele ha sicuramente un passo in più. e vediamo, però come dicevi tu stanno tutti a disposizione, nessun infortunato, rientra Moccia, quindi diciamo che avrò difficoltà a fare la formazione piacevolmente, voglio dire.